Allora, prendiamo quella di prima con la salsiccia, e poi io prendo... Inizio. Ah, quella con i gamberetti è la salsa rossa. Vabbè, è di qua. È di qua. Non è problema qua prima. Io lo sento, ok? Io lo sento, ok? Sento dalla seconda, adesso. Poi? E poi? Puoi dire, chiedi direttamente alla cazzo. Mi piace lo scontrino? Grazie. Grazie. E questa? L'altra pago. Ok. Queste? Sì. E poi anche due acque. Va bene, per quello che lì va bene, sono 15,80. Ok. Ok. Poi? Sì. Ah, per caso un euro? Sì, un euro ce l'ho. Grazie. Allora, venti, trenta. Quanti di acqua? Sì, le acqua sono da prendere, grazie. 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 Ok. Prego. Sono 4,72. E dobbiamo aspettare le pizze. In alcune stelle. In realtà, usiamo il potere. Un altro. Ciao. Happy Aune Happy. Happy Aune. In breve. E se mi stanno preparando lì, saluto, ciao! Happy New Year! On canale 5, via! Avanti, happy, happy hour! Sì, bro, dai! È già da credere! Happy New Year! Cos'è che hai detto? È una nuova lingua. È una new entry? No, no, è la lingua presenti. Ah, minimo. Ah, è la seda dell'italiano, non c'è niente. Ricordati bene che è meglio essere pazzi che pupazzi. Che pupazzi, sei sempre a tempo, essere pazzi sei il fenomeno. Avere gli encefalogrammi a piatti sono buoni tutti. Encefalogrammi a piatti. Encefalogrammi a piatti. Grazie. Grazie. Grazie.